Ma io non ho fatto nessun tipo di attacco alla Lega, io ho fatto un'analisi politica dicendo che Mattio Salvini ha sbagliato profondamente tutte le sue mossi. Sei riuscito nel capolavoro di perdere un governo e cinque ministri andare all'opposizione e consegnare l'Italia per i prossimi anni al PD che era morto e sepolto. Queste le parole riportate sul profilo Facebook del consigliere comunale Angelo Rossi di Forza Italia che hanno fatto letteralmente infuriare Tiziana Nisini, attuale senatrice della Lega ed esponente della Giunta Ghinelli. Nell'articolo che io prendevo in esame nel quale Salvini si giustificava dicendo che era colpa della Chiesa e dell'Unione Europea io rispondevo molto semplicemente che assolutamente non è colpa né dei complotti dell'Unione Europea né della Chiesa ma la colpa era la sua e basta perché ha fatto un arachiri totale politico che passerà alle anni della storia. Nel rispondere al consigliere Angelo Rossi, la Nisini afferma che non perde occasione di attaccare il nostro segretario federale Matteo Salvini un atteggiamento, afferma la Nisini che il consigliere Rossi conosce molto bene dal momento che dopo la storica appartenenza radicale il suo lungo pellegrinaggio da ultimo lo ha portato a sedere tra le fila di Forza Italia partito che insieme alla lista civica ora, alla Lega e a Fratelli d'Italia amministra questa città. è evidente, dice ancora la Nisini, che l'attenzione di Angelo Rossi si concentri ormai da tempo ad attaccare l'amministrazione comunale di cui fa parte e sul garantirsi una rielezione che gli assicuri il mantenimento della poltrona. Dice che sono un poltronista o uno che è attaccato alla poltrona cioè voglio dire, detto da una persona che ha un accumulo di poltroni enormi per decenni di migliaia di euro che se la prende con un povero consigliere comunale che ha un gettone di presenza a 30 euro lordi perché quello che prende ogni mese è 30 euro lordi e sarei attaccato a una poltrona da 30 euro è qualcosa veramente che lascia sconfortati. L'assessore Nisini infine consiglia ad Angelo Rossi di sedersi sui banchi dell'opposizione. Io e l'Americo Nacchini siamo due indipendenti noi facciamo parte del gruppo consigliare di Forza Italia che ringraziamo e con il quale ci troviamo benissimo però non siamo tesserati di Forza Italia voglio dire, siamo due civici. Per il futuro cosa ci sarà? Si va verso ovviamente le amministrative 2020? Solo tre parole, Arezzo nel cuore. Quindi una lista civica al di là di Forza Italia comunque a sostegno del sindaco Ghinelli? Una lista civica sicuramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti